Interrogatori e solidarietà inizia una settimana calda sul fronte giudiziario che ha scosso l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. I sei arresti di medici, dirigenti amministrativi e personale paramedico hanno provocato reazioni contrastanti ma soprattutto hanno compattato i pazienti e le donne operate al seno dal chirurgo Carlo Iannace finito nella retata dell'operazione Welfar portata a termine dal nucleo di polizia tributaria delle fiamme gialle di via Pontieri dirette dal colonnello Mario Imparato. Tutti uniti in difesa del dottore Carletto come lo chiamano affettuosamente e confidenzialmente i pazienti nessuno crede alle accuse mosse agli Annace, a Caracciolo e ai dirigenti Giannitti e Castaldo quei premi sospetti e le liste d'attesa violate avrebbero attirato l'attenzione investigativa dei finanzieri avellinesi che dal 2007 indagavano sul conto dei due noti chirurghi del Moscati. Tutto però era iniziato con un esposto interno redatto dal dottore Luigi Balestra nei confronti dei colleghi arrestati la scorsa settimana un esposto durissimo che insinuava appunto sospetti gravi su quanto avveniva nel reparto diretto dal primario Francesco Caracciolo luminare di chiara fama. E così è scattata l'inchiesta culminata quattro anni dopo con sei arresti di perpeculato, falsediologico, truffe d'anile dello Stato, sedici denunce a piede libero e un'onta non indifferente che lede comunque la buona immagine dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino un'azienda modello, fiore all'occhiello della sanità campana e ora coinvolta in un'inchiesta che scotte che potrebbe avere a brevi altri sorprendenti sviluppi investigativi. Pertanto si estende la rete di solidarietà per i medici arrestati e in modo particolare per il senologo Carlo Iannace.